Amici telespettatori, ci siamo, eccoci con un'altra puntata di Polifemo, un Polifemo che giunge alla terza puntata relativa al tema infrastrutture e trasporti. Faremo un po' la sintesi di quanto detto nelle puntate precedenti, cercando ovviamente anche di darvi delle novità, degli sviluppi, perché poi la materia in ambito di infrastrutture e trasporti è abbastanza fluida, è abbastanza magmatica per così dire. E diamo il nostro benvenuto a Francesco Gravina che è responsabile commerciale e operativo di Soleir, buonasera Gravina e buonasera al dottor Giovanni Lacava, sociologo, che è un esperto di problematiche, di tematiche infrastrutturali e nel campo della mobilità nell'ambito aereo, diciamo così, in modo particolare. Ma quando parliamo di infrastrutture ovviamente è un termine onnicomprensivo. Allora io partirei intanto da Francesco Gravina. Ci vedete armati, tra virgolette, di telefono, ma non è casuale la presenza qui di cellulare e telefono, perché stiamo cercando disperatamente, tra virgolette, di interloquire con il governatore di Puglia e il presidente Emiliano, perché queste tematiche hanno una strettissima connessione vista la competenza regionale. C'è Francesco Gravina che da un mese sta... Stiamo pensando di spostarci nella redazione di chi l'ha visto, di mi manderei tre, per sapere qualche notizia del nostro governatore Emiliano? Cercheremo di metterci in contatto e quantomeno di effettuare un collegamento, un dialogo telefono. Intanto l'ultima puntata, un mesetto fa, noi abbiamo fatto riferimento a certi sviluppi relativi all'attività di Soleir, sviluppi che stavano appunto, come dire, maturando in fase di gestazione. Cosa c'è stato in questi 30 giorni circa? Possiamo dire che c'è l'interesse di una nuova compagnia, una new entry, interessato al progetto Taranto e io sono il loro rappresentante e tramite tra la compagnia e il territorio. Appunto aspettiamo di fare un incontro con il presidente Emiliano per cercare un'intesa e presentare questo progetto. Ci dica qualcosina di più? Sappiamo che ancora come di una situazione top secret per così dire, però... collegamenti di linea per destinazioni, quelle di esigenza territoriale, le capital city che sono a Milano e a Roma e poi altro. Stop. Allora, io ho detto, quando parliamo, abbiamo parlato più volte dell'arlotta, abbiamo parlato dei voli passeggeri e stiamo cercando di interfacciarci con i vari soggetti, come dire, attori sul territorio e quindi ci è sembrato opportuno partire dal comune di Taranto con il vice sindaco, nonché assessore al turismo e al marketing territoriale, la dottoressa Valentina Tilger. Io direi di fare così, se siete d'accordo. Facciamo partire l'intervista, l'ascoltiamo e poi magari così possiamo commentare, possiamo prendere spunto da quanto affermato dalla Tilger per rettificare, per implementare, per capovolgere quello che è stato detto. Partiamo con questa intervista realizzata con il vice sindaco. La battaglia per i voli passeggeri dall'aeroporto Arlotta di Grottaglie è giusto, come dire, condurla, confrontandosi con vari soggetti istituzionali dell'area ionica e non solo. Siamo oggi con la dottoressa Valentina Tilger, vice sindaco del comune di Taranto, nonché assessore al marketing territoriale e al turismo. Quindi due branche, due deleghe amministrative che hanno a che fare ovviamente con l'importanza che avrebbero dei voli passeggeri. E allora, intanto dobbiamo dire che l'immagine di una città la si può anche misurare attraverso le possibilità, attraverso i trasporti, i collegamenti che essa offre. In questo senso i voli passeggeri. Sì, la destinazione cargo, l'aerospazio, però il turismo si fa con i voli. Il turismo si fa con i numeri e con l'agevolazione del turista rispetto alla fruibilità e raggiungimento delle località turistiche. In questo senso dobbiamo dire che Taranto è piuttosto negletta dalle strategie di infrastrutturazione rispetto ai trasporti. L'aeroporto di Grottaglie, se utilizzato anche come destinazione per i charter, per gli approdi croceristici e le partenze croceristiche, per i voli passeggeri, sarebbe sicuramente un asset strategico da sviluppare. È chiaro che lo sviluppo, noi come Comune, più volte abbiamo compulsato le istituzioni competenti affinché avviassero un processo e ci comunicassero quali sono i piani strategici di investimento per il rafforzamento dell'aeroporto di Grottaglie. Ad oggi devo dire che non abbiamo ricevuto riscontro alle nostre richieste dalla regione. Sulla provincia ci siamo mossi per chiedere la sistemazione della bretella di collegamento perché anche una volta creato l'aeroporto è necessario che sia correttamente collegato con una viabilità fruibile e scorrevole. Abbiamo un po' di problemi di isolamento. Nelle mure il sindaco Melucci aveva sottolineato l'importanza del potenziamento delle navette da e per gli aeroporti di Brindisi e di Bari. Se questo da un lato può essere utile per alleviare la sofferenza, dall'altro però potrebbe in un certo qual modo far dimenticare l'aeroporto Arlotta di Grottaglie nel senso che potrebbero dirci da Bari e da Brindisi vedete abbiamo il servizio navetta e qui il servizio navetta e quindi tutto sommato si può fare a meno dei voli passeggeri all'aeroporto. Cioè questa scelta se da un lato può aiutare, certamente aiuti il territorio perché prendere una navetta alle 5 di mattina con il volo alle 10 è pura follia e quindi vanno potenziate le navette. Però d'altro canto potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio questa delle navette. Su questo punto lo stato dell'arte è che noi abbiamo effettuato un'analisi sui coefficienti di riempimento e sui orari di partenza da e per gli aeroporti, abbiamo individuato delle carenze, abbiamo scritto alla regione per chiedere il potenziamento e non abbiamo ricevuto riscontro, quindi siamo tranquilli che non abbiamo nessuno nell'uno o nell'altro. L'utilizzo di differenti punti di arrivo non è sostitutivo rispetto alla creazione di un aeroporto vicino a Taranto. È chiaro che avere un servizio che ti colleghi a Taranto ti aiuta una volta che sei arrivato a Brindisi o a Bari per invogliare le persone a venire verso Taranto, cioè nonostante è anche inconfutabile che se arrivi in un posto l'idea di poi prendere la macchina ed avviarti verso un'altra località è meno attraente rispetto a considerare finito il tuo viaggio e goderti le bellezze di quel luogo. Se poi consideriamo che in questi anni Taranto è sempre stata la scenerentola rispetto sia agli sviluppi comunicativi che a tutti i pregiudizi che si porta non è così istintivo e naturale dire va bene vado in un aeroporto un po' più lontano però poi scelgo di andare a Taranto. Noi purtroppo in questo momento abbiamo bisogno di sforzi che agevolino l'accesso a Taranto e non di palliativi. Leonardo, i vertici di Leonardo hanno più volte asserito la centralità di Taranto per quanto riguarda l'innovazione però ci sono dei riscontri strani nel senso che i vertici di Leonardo se a Taranto parlano bene di Taranto poi vanno a Napoli e dicono che il centro per l'innovazione risiede a Napoli e quindi Taranto diciamo che non ha tutta questa importanza nel cuore, nella mente di Leonardo per cui alla fine vediamo che i voli passeggeri non ci sono e ci sono poi certe situazioni di facciata come quella appunto della produzione dei vari velivoli però alla fine ripeto Taranto non gode di questa centralità che solo apparentemente viene sbandierata da Leonardo. Taranto è oggetto di tantissime dichiarazioni di buona volontà e di pochissime manifestazioni di concretizzazione di questa buona volontà è un problema che in questo anno e mezzo abbiamo vissuto sulla nostra pelle grandi proclami, definizioni di investimenti a venire, di progettualità a venire ma molto spesso non inseriti in un contesto organico di sviluppo strategico e addirittura molto spesso non seguiti da fatti concreti. Stessa cosa dicasi per la futuristica e avveniristica e forse favolistica aggiungo io ipotesi dell'aerospazio, ben vengano i voli suborbitali ma sinceramente io prima dei voli suborbitali di fare un weekend su Marte preferirei da Grottaglie prendere un volo per Roma o Milano e d'altronde anche la stessa collocazione dell'aerospazio in altre parti del mondo c'è un centro di livello internazionale in Portogallo le strutture per l'aerospazio sono comunque molto ma molto distanti dai centri abitati per ovvie ragioni. Creare una situazione di aerospazio nelle vicinanze di Grottaglie e dei centri abitati già questo fa capire che parliamo forse di favole. Durante i voli suborbitali non dimentichiamo durante il lancio di shuttle suborbitali vengono comunque effettuate delle emissioni molto pesanti. L'arlotta come Cape Canaveral sembra? Sì, il problema qual è? Cape Canaveral è nel bel mezzo del nulla perché durante questi lanci le emissioni vanno a inquinare il terreno, parliamo di ammoniaca e di acidi e poi dal terreno con il processo di evaporazione generano delle piogge acide. Io dico nel momento in cui stiamo lavorando tutti per l'ambientalizzazione della grande industria che a Taranto c'è e è giusto che si vigili affinché l'impatto ambientale sia rispettoso delle normative, rispettoso della cittadinanza, andare ad inserire un'altra operazione ad alto impatto ambientale potrebbe non essere la scelta più corretta. Per concludere vogliamo strappare da parte del Comune di Taranto un impegno forte per i voli passeggeri, battere i pugni sui tavoli baresi, sui tavoli romani perché se davvero vogliamo creare un'alternativa alla monocultura dell'acciaio attraverso il turismo, attraverso le immense risorse naturali, attraverso le paesaggistiche, attraverso il patrimonio storico di Taranto e della sua provincia, sinceramente non si può fare turismo senza aerei, diciamocelo chiaro. L'impegno del Comune c'è sempre stato e c'è, noi possiamo e lo facciamo, battere i pugni, scrivere, richiedere delle prese di posizione, degli impegni molto forti. Devo dire che finora non abbiamo avuto grandi riscontri dalle istituzioni che sono realmente preposte a rendere questo sogno una realtà. In quest'ottica forse anche il coinvolgimento dei parlamentari, se ci sono, signori parlamentari battete un colpo. Sì, è necessario che sia un'operazione corale che coinvolga tutte le istituzioni. Parlamentari tarantini in primis. Chiaro, però tutte le istituzioni da Roma, Regione, Provincia, sono tutte più competenti di noi. Noi possiamo manifestare fortissimamente e star dietro con tenacia a questa iniziativa. Abbiamo un po' le armi spuntate se nessuno ci dà una mano. E allora, dottor Lacava, tanto materiale, tanta carne a cuocere, cosa l'ha convinta, cosa non l'ha convinta? Mi sono meravigliato. In positivo e in negativo? In positivo, perché forse è stato il primo politico, forse sarà il secondo, che non ci dice che non è possibile che tutti, ognuno dice abbiamo l'aeroporto sotto casa e lo vogliamo usare. Quindi non ha detto questo e di questo mi compiaccio. Però ho notato, da quello che avete ascoltato, che ha detto, che in realtà l'amministrazione comunale di Tanzo si limita a segnalare, a fare delle richieste, a scrivere e non riceve risposta. Non ha risposta alle domande che vengono poste. Io invece credo anche che ci sia un po' di disinformazione, perché da tutti i colloqui che io ho, sia con politici, con personaggi, con amministratori che hanno ruoli diversi in questo contesto, mi rendo conto che c'è un po' di disinformazione, perché se siamo arrivati al punto che si dice, anche di recente abbiamo saputo che ci sono delle risorse di un paio di milioni da spendere su Grottaglie, però si dice che per l'aeroporto non si capisce bene cosa bisogna fare, né posso pensare che questi due milioni debbano servire a sistemare i servizi igienici nell'area sterile che non ci sono. Allora mi meraviglio come mai da Grottaglie sono stati fatti due, tre voli, charter, quattro, cinque, sicuramente meno di dieci in tanti anni e come si è potuto permettere di effettuare questi voli nonostante nello scalo non ci sia stata la presenza di un servizio sanitario, anche se la società dice che è collegata con l'ospedale di Grottaglie, una cosa piuttosto atipica, comunque loro evidentemente l'Enac ha autorizzato questa cosa, ha autorizzato che un aeroporto può stare anche senza il personale sanitario, cosa che guarda caso prima ancora che si costituisse ADP quando era SEAP c'era una convenzione con la Croce Rossa italiana e dopodiché con il cambio di ragione sociale, insomma anche un po' di tempo prima questa convenzione poi non è stata più rinnovata e quindi l'aeroporto è rimasto diciamo orfano di questo servizio, ma comunque di tante altre cosucce che non sto ad elencare che ne abbiamo parlato più volte e ho visto che da quell'orecchio non si recepisce tanto e si dice sempre più o meno la stessa cosa, cioè il signor Franchini, direttore generale ritiene che noi siamo a 50 km, a 60 km da un altro aeroporto, quindi abbiamo capito che la regione, anche l'avvocato Giannini ha ribadito che da Grottaglie è inutile continuare a parlare di questa cosa e poi invece il Presidente ci dice no, 4 aeroporti sono meglio di 3, sono meglio di 2, quindi se c'è qualcuno interessato, dimenticando all'ingendiere che ci sono altre cose da rivedere che purtroppo non sono state, non sono andate in regola, però ritornando a quanto diceva le affermazioni, diciamo affermazioni che ha fatto la dottoressa, il vice sindaco di Pilgaard del Comune di Taranto, lasciano un po' come dire, non dico perplesso, un po' di amare in bocca perché se il Comune, che comunque è un'istituzione importante, sta parlando di quanto sta sul territorio, non dimentichiamoci. Però mi permetta la Cava, lei dice noi come Comune abbiamo una sfera di competenze, oltre tanto non possiamo, non è che possiamo andare ad ammazzare, tra virgolette, qualcuno? È vero, questo è vero, io sono, cioè ricordo che io sono stato, ho collaborato per più di un anno con il Comune di Taranto a titolo gratuito nella gestione precedente, Stefano, quindi sono entrato un po' nelle problematiche del Comune di Taranto e posso dire che con l'assessore Calcante abbiamo fatto più di una comunicazione scritta, noi abbiamo avuto incontri direttamente, abbiamo spiegato e non abbiamo consentito a nessuno di dirci quello che qualcun altro ha detto. Poi si sono alternati gli assessori da Franzoso a un altro, Minervini, poi ancora oggi Giannini. Voglio dire, ma c'è come un live motif che viene ripetuto sempre nella stessa maniera, però le motivazioni principali non vengono affrontate. C'è da dire, a proposito di questo fatto del restyling collegando le due milioni di adesso, era stata ufficializzata su un bilancio, questa cosa fu anche portata… Questo vorrei poi specificamente approfondire. Intanto la cava, ora è sempre impegnato Francesco Gravina con Emiliano, ma veramente a chi l'ha visto Andrino. Intanto c'è una notizia proprio fresca fresca, Toninelli, il ministro appunto alle infrastrutture e ai trasporti, il ministro Toninelli è andato a Crotone e ha festeggiato lo stanziamento di 9 milioni in 3 anni, sono stati messi due giorni fa nella finanziaria, nell'ultima finanziaria, un emendamento alla finanziaria di 9 milioni, quindi quando vuole il governo sa intervenire come è intervenuto per Crotone. Gravina. Ma io vorrei fare un passo indietro, noi 9 milioni a Taranto li abbiamo avuti, li hanno spesi per restyling e messi sul report dell'anno finanziario 2009-2010, hanno riportato sul bilancio opere in corso, il sottoscritto ha mandato tre raccomandate chiedendo agli organi preposti spiegazioni in merito alla gara d'appalto, al capitolato e alla ditta giudicatrice, però non mi è stata data nessuna risposta. I lavori in aeroporto come restyling non sono stati fatti, però 9 milioni sono stati spesi. Volatilizzatevi. Io vorrei aggiungere che questo è il dato che è stato raccolto sul report, poi non sappiamo se sono stati fatti degli aggiustamenti su questo documento, per cui magari quello che ci ha stupito è il lavoro in corso. Opera in corso è un'opera in corso, vuol dire che c'è stato, c'è un capitolato, c'è una ditta giudicatrice e ci deve essere anche poi, come da buon andamento delle gare di appalto pubbliche, una data di inizio, una data di fine e poi un organo di controllo che doveva controllare. Anche questo è stato mandato all'Enac, che dovrebbe essere l'ente governativo, se non erro, se la memoria non mi inganni, che doveva controllare tutte le opere preposte, però non c'è stata data proprio nessuna risposta in tutti gli organi. Sì, io vorrei tornare un attimo all'intervista della dott. Tessa Tager, perché? Perché è stato affrontato il problema delle navette, perché noi non avevamo capito bene in che cosa consistesse questo fatto delle navette. Qualcuno ci chiedeva ma allora l'aeroporto di Taranto potrebbe essere messo in esercizio? No. Le navette sono le classiche navette di cui si parla da tempo e sono le navette che vengono messe a disposizione dei viaggiatori per raggiungere i due aeroporti. Io personalmente le ho viste partire sia da Taranto che da Grottaglie, anzi più delle volte vuote e qualche volta una persona. Questo è quello che ho visto io. Probabilmente a Francavilla forse avrà caricato, avrà caricato all'Asiano, a Mesagna, forse è più utile da quella parte. Però considerando che non hanno, diciamo, non sono coordinate con gli aerei, ormai partono uno ogni ora, per cui il concetto più ovvio che dovrebbe essere attivato, se fosse attivato in tutti i sensi lo scalo di Taranto, sarebbe la metropolitana di superficie, perché non dimentichiamo che a Brindisi è stata fatta una stazione ferroviaria ex 9, diciamo una fermata, piccola stazione all'ospedale Perrino. Ora si sta pensando di collegare, cioè è da un bel po' di tempo che si sta pensando di collegare Taranto per via mezzo ferroviario, Taranto con Perrino e poi da Perrino la prima fase prevedeva lo spostamento con bus fino all'aeroporto, però c'è in progetto con rete ferroviaria italiana di far partire da Perrino il proseguimento insomma della linea ferrata fino dentro l'aeroporto. Noi ce l'abbiamo però a 800 metri la ferrovia. Ecco, io, Gravino, voleva dirvi qualcosa. Io intanto però tornando al discorso di Toninelli, io dico ma in generale ora questo è un territorio che evidentemente da chi lo rappresenta non è adeguatamente tutelato perché Toninelli evidentemente interviene a Crotone, non perché si sia innamorato di Crotone ma perché evidentemente ci sono dei rappresentanti della Calabria che riescono ad alzare la voce e riescono ad ottenere. Qui evidentemente, e sottolineo l'avverbio evidentemente, noi veniamo ancora una volta, se noi siamo negletti, noi ancora una volta veniamo calpestati dalla Regione Puglia. Però ribadisco, se non vengono, la Regione sicuramente avrà dei rapporti con il Ministero, però se non vengono evidenziate, se quando la Regione parla col Ministero porta avanti delle progettualità probabilmente anche per Taranto o Grottaglie, nella fattispecie, che non sono quelle che le associazioni, i comitati, i cittadini, qualunque vorrebbero che si parlasse. La Regione probabilmente sta andando a parlare o sarà già andata, avrà già scritto, avrà presentato un progetto che d'altronde non è di questi giorni, un progetto che comincia a segnare già l'anno, per lavori che si devono fare intorno all'aeroporto ma la cui destinazione non è legata al traffico dei passeggeri, che è quello per cui la società di gestione ha avuto l'incarico, ma stiamo parlando di industria, di piattaforma logistica, io dico è la piattaforma logistica di Taranto, se ricordate, quando fu fatto il Distri Park e l'Agromed, che praticamente è rimasta sulla carta e non è partita, quindi pensare di utilizzare un aeroporto del quale non si è mai parlato, se ne è nascosta la presenza e dire sul decreto del Presidente della Repubblica che l'aeroporto, ovviamente un aeroporto di interesse nazionale, comunque non è che viene esclusa la caratteristica di aeroporto, se no non avrebbe motivo di esistere neanche il fatto che è di interesse nazionale, però proiettato alla sperimentazione dei droni che se non fosse implicito e messo nel decreto i droni devono stare almeno 8 km dagli aeroporti, quindi a Grottaglia addirittura li portiamo dentro l'aeroporto, io sono per l'evoluzione del sistema, per l'amor di Dio, però ognuno voglio dire, il medico fa il medico, l'avvocato fa l'avvocato. Gravina voleva dire qualcosa? Crotone circa un anno e mezzo fa ha avuto la chiusura e praticamente il declassamento del certificato di aeroporto. La classe politica crotonese in maniera trasversale, da destra a sinistra, da centro a partiti di tutto l'arco costituzionale, hanno fatto un'azione massiccia a livello governativo per il tramite della loro regione Calabria, dove hanno riottenuto la certificazione di aeroporto aperto commerciale nel giro di tre mesi. Addirittura hanno trovato i fondi, perché i fondi, voglio spiegare, sicuramente il dottor Lacava me ne darà atto, vengono dati a quelle infrastrutture che hanno un potenziale inespresso di traffico per dargli lo start-up del rilancio. Dare i soldi come continua a dare per un contratto già stipulato in essere cabari con Ryanair e company, Bari è già un aeroporto avviato. Io qua non si tratta di campanismo, bisogna dare quel giusto merito dove vanno allocati questi interventi. Continuare a mungere un aeroporto come Bari, dove loro si reputano i più bravi, sicuramente perché la classe politica bari si è tanto affotto e tanto realizzato, però ora togliamo i finanziamenti, vediamo Bari cosa riesce a mantenere di suo. I soldi vanno dati a Taranto, perché Taranto comunque non ha ottenuto nulla, nulla ha fatto la società di aeroporti di Puglia, nulla ha fatto l'Enac per verificare il mancato adempimento di aeroporti di Puglia. Quindi le responsabilità non ce le ha il Francesco Gravino, il dottor Lacava o Luigi Abate. Ci sono delle persone preposte che sono assenti nei loro doveri. La Cava Sì, io non vorrei che questa trasmissione si focalizzasse su una denuncia. Però era, capisce, lo sfogo, la rabbia, no? È talmente evidente che siamo tutti un po' dispiaciuti di questo, perché noi non chiediamo che non si faccia, non diciamo che non si faccia l'aerospazio, che la Virgin non venga, per qua abbiamo alcune perplessità per il fatto del privato, perché la Virgin è una società gestita da un privato, sembra che sia stato chiuso un contratto con una società barese che dovrebbe costruire una parte o tutto, il vettore che dovrebbe portare questi turisti spaziali. Però, nello stesso tempo, mentre ci danno assicurazioni che anche, non questo settore a discapito di quello del traffico normale, di un aeroporto, di un traffico passeggeri, ma anche questo settore dovrebbe essere gestito a grottaglie, mi fa specie che poi Avionews, che è una testata giornalistica specializzata nel settore aeronautico, ci fa sapere che già sono in corso, ma non trattative in corso, si sta già andando avanti riconoscendo al Portogallo, in un'isola che sta al centro atlantico, il riconoscimento del primo spazioporto europeo. Allora, quando a noi dicono che il primo spazioporto europeo si fa a grottaglie, è la Virgin, che ricorda una società privata, allora lo Stato che cambia la sua, non lo Stato, il Ministero delle Infrastrutture che cambia l'impostazione di una struttura aeroportuale per farla diventare una base di riferimento di un privato e poi non dà invece al pubblico, insomma è un po' come la contesa che c'è fra la sanità pubblica e la sanità privata, tu mi fai il taglio nel riordino ospedaliero, mi fai tante mutilazioni, chiamiamole così, però dai altrettanti quattrini invece al meno male che c'è l'iniziativa privata. Ma in questo caso la presenza del privato, siccome qua non saranno quattrini che metterà soltanto la regione Puglia, perché l'Aeroporti Puglia penso che non dovrebbe mettere alcun che perché l'Aeroporti Puglia ha delle responsabilità legate al trasporto dei passeggeri, cioè la loro, la convenzione consente alla società di gestione di utilizzare tutto il suo personale e per questo è stato qualificato per gestire la rampa, per gestire le biglietterie, per gestire il traffico all'interno dell'area sterile, per prendere i bagagli, per operare tutto ciò che attiene al trasferimento delle persone e non per ospitare sei persone che vengono da non so da quale parte del mondo per stare a Grottaglia un certo numero di giorni per prepararsi a questo volo, poi dopo 20 minuti il volo è finito, questi se ne andranno, l'aereo andrà in manutenzione, chissà quando. Quindi noi su quattro persone stiamo focalizzando l'interesse di un territorio e aggiungo anche quello limitrofo, quello ionico fino al metapuntino, del basso materano e dell'alto cosentino, fino a un certo punto anche crotonese perché intendiamoci che noi da Crotone, da Capurizzuto fino a qui, fino a Gallipoli siamo oggetto di interesse, specialmente per il traffico estivo. Mi risulta in questo periodo stiamo lavorando con gli amici della Basilicata e della Lucania, del Potentino, per far sì che quest'area possa fruire in virtù di questi vecchi legami ellenici che abbiamo fra Taranto e l'altra parte ionica della Magna Grecia, poter fare tutta un'unica gestione. Quindi ci sembra strano che poi arriviamo al punto che si dice ma Taranto può andare a Brindisi, ma guardate che Taranto arriva alla terza, arriva a Ginosa, arriva a metapunto. Taranto siamo anche... Francavilla sul seni, io dico che a Taranto lancio un messaggio ai dirigenti scolastici, in tutta Italia le scuole fanno visite istruttive, già ai ragazzi delle scuole medie, a spiegare a cosa serve l'importanza di un aeroporto. L'aeroporto di Brescia, l'aeroporto di Verona, l'aeroporto di Bergamo, ci sono proprio in date, in accordo con le direzioni aeroportuali, il dottor Lacava me ne può dare conferma, ci sono proprio visite istruttive di scuole che addirittura arrivano dalle varie province, da Bergamo ti arrivano dal Mantovano, da... perché è un fenomeno di importanza, di sviluppo, di positività del territorio, di crescita e quindi noi a Taranto proprio manca questo, io invito proprio tutti i dirigenti scolastici di fare, anzi la Soleri è a disposizione, anche per il tramite della vostra televisione che mi autorizza, proprio di fare, di creare queste opportunità e aeroporti di Puglia non può dirci di no, di aprire magari in determinati periodi dell'anno proprio delle visite guidate in aeroporto, spiegare l'importanza di un aeroporto, le attività che si svolgono, quale è l'importanza di tutto, proprio della mobilità nel totale e in complesso dei passeggeri, e per i passeggeri. La Cava, partiamo da questo spunto di educazione proprio. Lui dice, l'aeroporto Puglia un po' dirci di no, non dimentichiamo che l'aeroporto di Taranto, Grottaglie, sulla carta è ancora un aeroporto minore, ma dice ma che stai dicendo? Beh, in ragione, poi io mi meravigliai quando andai a leggere nella nota, no no, la circolare è venuta a seguire, però nella nota risultava degli aeroporti minori insieme alle superfici, l'aeroporto veramente era mortificante, è stato mortificante per me leggere che l'aeroporto di Taranto, Grottaglie, era inserito in questa nota, ma poi notai che si cominciavano a fare dei lavori. Bene, in virtù di una circolare che l'Enac poi ha emesso, essendo l'aeroporto di Taranto definito aeroporto minore, veniva chiuso al pubblico. Veniva chiuso al pubblico perché, nella circolare spiega che queste chiusure vengono fatte, perché dal momento che non c'è traffico per evitare o si siano state infrazioni, attività, diciamo, delinquenziali, diciamo, allora hanno chiuso l'aeroporto. Adesso, credo che quella circolare, ora entro nel merito, comunque non è stata rispettata, ecco questo è certo, non è stata rispettata perché doveva entrare in vigore sei mesi dopo, mentre qualche giorno prima che uscisse a circolare già si facevano i lavori per chiudere, insomma, al pubblico. Però, ora l'aeroporto, quello era una circolare che si riferiva agli aeroporti minori. Adesso noi facciamo parte Taranto, Grottali, fa parte degli aeroporti di interesse nazionali. Quindi, a proposito del fatto che non può dirci di no, ad oggi l'aeroporto è chiuso, salgono imprese, lavorano nell'aerostazione, società che fino a ieri stavano, fino avanti ieri stavano nella zona industriale, sono state invitate ad entrare nell'aerostazione, il primo piano, che una volta era un bellissimo, doveva essere il ristorante con bel vedere, che solo a Capodichino si può godere di questa visuale. Noi questa opportunità non l'abbiamo vista, sono state fatte delle divisioni al primo piano e quindi per il pubblico, anche per quel fatto educativo di andare a vedere come è fatta un'aerostazione, visto che il Presidente diceva che anche questo è turismo quando ci sarà l'aerospazio. Portare le ragazze a vedere, guarda, guarda com'è bella questa cosa, beh insomma se riportiamo il turismo e l'informazione soltanto a questo livello, insomma mi viene un po' da pensare. Dobbiamo stringere, fare quadrato e chi ha preso impegni politici pubblicamente per il territorio di Taranto, nell'interesse del territorio di Taranto, nell'interesse della mobilità, il suo mandato sta scadendo Presidente Emiliano, non è una provocazione, lei l'ha dichiarato, quindi ora la compagnia ce l'abbiamo, vediamo cosa dobbiamo fare. Infatti lui più volte ha sottolineato, datemi una compagnia, portatemi una compagnia, la compagnia c'è, quindi? Io più volte ho ricordato al Presidente che lui ha una figura perché chi svolge la regia dell'operazione delle attività di aeroporto di Puglia è il direttore generale, quindi non è il cittadino che deve portare la compagnia. Ora si è proposta, la Soler ha trovato la compagnia, è disposta, ha ben presentato l'aeroporto di Taranto, le sue potenzialità sono state acquisite, verificate, concordate ed approvate dalla compagnia. Ora sta il Presidente Emiliano fare il suo dovere, il Presidente Emiliano, poi tutte le sue figure di spicco che lui ritiene opportune, il direttore generale, il vicepresidente di aeroporto di Puglia, però prima ragioniamo con il Presidente della Regione Puglia. Bene, siamo così. Mi chiederei anche durante la presentazione se la vostra trasmissione potrebbe fare una diretta in streaming di questa attività, sarebbe molto importante nell'interesse e nel rispetto della cittadinanza di Taranto. Possibilissimo, possibilissimo. Prendiamo l'impegno dal punto di vista proprio della comunicazione. Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio, se la dottoressa è d'accordo, proprio per far sì che ora, il vice sindaco, siete d'accordo, così come l'ho fatto con altre persone, non ho difficoltà, avendo visto la sua buona volontà, a quantomeno essere positiva su questo argomento, quando vuole, in qualunque momento, anche vostro tramite, mi può contattare, io modestamente gli posso dare qualche indicazione, anche per indirizzare nella maniera giusta le richieste. Dottor Lacava, io prendo l'impegno perché io la conosco, è un esperto della materia, la dottoressa Tilger ha volontà, però ha bisogno di un supporto, diciamo, tecnico e quindi io mi farò così portavoce di questa sua disponibilità, cercheremo anche di creare un incontro tra voi due affinché possiate interagire e io penso che sia un beneficio per la città di Taranto. Voglio dire che queste cose non nascono con tono polemico perché se no non arriviamo da nessuna parte, nei confronti anche della regione, perché volere o no, noi siamo nella regione Puglia, dobbiamo interagire con la provincia, con le istituzioni, con la regione, con gli assessorati, però vorremmo non ricevere sempre le stesse risposte, se no noi faremo sempre le stesse domande e gli anni passano, noi possiamo, per esempio... E i figli crescono? Sì, infatti i figli crescono e quindi mai tempi, appunto, siccome ora già si sta parlando attitudine dell'autunno, perché l'estate è già stato programmato, quindi queste cose, anche quando il Presidente dice trovatemi una compagnia, ma dal momento in cui te l'ho trovata e ci organizziamo, passa ancora un altro anno e nel frattempo succedono tante cose, qui specialmente io non... Il settore è in evoluzione, cambiano le cose, cambiano le scene operative da tre mesi in tre mesi, cioè non... quindi va fatta una programmazione... ne cito una... la stessa Ryanair e Wizz Air, diciamo compagnia oramai consolidate, presente in tutta Europa e oltre, quando lancia una nuova destinazione, nonostante che hanno un brand, una piattaforma di vendita, di commercializzazione e quant'altro, la nuova destinazione loro la programmano e la lanciano con nove mesi di anticipo, quindi non è che oggi troviamo la compagnia e significa che partiamo a gennaio o a febbraio, cancellate dalla mente questo discorso, troviamo... la compagnia è stata trovata, va fatto tutto un programma, un vademecum organizzativo, un cronoprogramma e devono essere rispettate alla lettera a questo cronoprogramma, altrimenti non andiamo a nessuna parte. E allora siamo al momento delle conclusioni, la Cava abbiamo lanciato questo appello, lui l'ha lanciato anche nell'ottica dell'educazione delle scolaresche. E siamo perfettamente d'accordo in linea con questo, e benvengono tutte le attività, tutte le progettualità che comunque si fanno in quell'area, però a concludere volevo dire stasera l'abbiamo orientata tutta sul settore aeroportuale. Possiamo rifarci qualche altra cosa? Ovviamente noi non è che siamo... Il tema più caldo proprio. Sì, è più caldo perché ci sono dei comitati ad hoc che si occupano di questo, però potrebbero nascere anche i comitati ad hoc. Io il primo comitato lo rappresentavo nel 1995, quando in quel periodo collaboravamo anche, se dovesse capitare che è in linea anche la dottoressa Di Bello, lei ricorderà quando era assessore regionale al turismo, il presidente mi pare era di Staso. Noi stavamo impostando un bel lavoro, poi dopo le cose sono cambiate, anzi io mi illudevo che con quel comitato, era un comitato tecnico la verità. All'epoca c'era un commissario straordinario, Dario Portipuglia, l'ingegnere Vessia che preparava tutto il progetto per Bari, insomma. Quindi, in conclusione... Sì, io vorrei concludere che spero che possa anche nascere una forza, perché noi parlavamo di infrastrutture e trasporti, quindi siccome le infrastrutture sono opere che hanno bisogno di un po' di tempo per essere messi in condizioni di funzionare, io penso anche alla ferrovia e penso anche al porto. Non vedo nesso porto e aeroporto, se non dal punto di vista solo turistico, mentre un aeroporto non è che deve vivere solo per il turismo, però il nesso porto e aeroporto è dal punto di vista turistico, perché il croceristico più che altro, il porto è necessario per le crociere e l'aeroporto per portare i passeggeri a imbarcarsi. Per il resto, posso avere una speranza che quella ferrovia che passa a 600 metri dalla testata 17, cioè sarebbe quella che sta più vicino alla ferrovia, noi siamo vicinissimi, se volessimo dare, siccome oggi si parla di accessibilità rapida, veloce negli scali, noi rispetto a parte Bari che è riuscita ad entrare dentro l'aerostazione, ma noi a Grottagli avremmo la possibilità di entrare. C'è una linea che entra nell'aeroporto, dalla stazione ferrovia direttamente in aeroporto, ma l'aeroporto oggi è la base militare, quindi c'è stata sempre la necessità di unire la ferrovia, portare la ferrovia dentro lo scalo. Ieri militare, oggi civile, se volessimo parlare di questo. Per il momento si sta focalizzando su Brindisi, io voglio sperare che venga pure Brindisi, perché noi con Brindisi, con l'aeroporto di Brindisi potremo anche interagire, perché se tu hai un volo per Innsbruck alle 10 e mezza e poi ce n'hai uno sempre per Innsbruck alle 14, non è detto che io in questo periodo ho girato abbastanza e vedo che la gente non si muove soltanto per andare a trovare il nipotino con Ryanair, ho volato anche con compagnie dove il biglietto non costa certo 40-50 euro. Il movimento c'è e non è solo turistico, è per i servizi ai cittadini. Siccome questo è il nostro appuntamento, ne abbiamo fatti già altri in passato e questa trasmissione è visibile mediante la piattaforma di Sky, canale 879, canale 879, viva l'Italia Channel, quindi siamo visibili in tutta Italia, in tutta Europa, abbiamo ricevuto delle curiosità, perché parlando si spolverano un po' le curiosità. Qualcuno ci ha detto, ma Taranto ha l'aeroporto? Sì, perché poi ci hanno contattato, perché si è andato a vedere il sito Solera, hanno preso il numero, ci hanno contattato, ci hanno chiamato per avere delle curiosità, suscita la curiosità, l'interesse, quindi se c'è curiosità è paragonabile all'interesse. Poi qualche altro ci ha detto, anche dalla vicina Basilicata, dalla Lucania, ma Taranto non era militare, non è mai stato militare. L'aeroporto è un aeroporto commerciale civile, sono autorizzati al traffico militare, ma l'aeroporto di base è commerciale. Non è che non è mai stato, è stato militare, si chiama anche Arlotta per questo. Lo Stato adesso è commerciale civile. Bene, fatta questa precisazione, io ringrazio, termina qui il nostro appuntamento, ringrazio Francesco Gravina, che è responsabile commerciale e operativo di Soleil, ringrazio il sociologo, il dottor Giovanni Lacava. Vogliamo fare tanti auguri di un sereno Natale a tutti, ai bisognosi, alle famiglie, ai disoccupati, che sia un nuovo anno positivo, che possono trovare veramente un'occupazione, che la stella cometa illumini con una possibilità di lavoro per tutti. Diamoci da fare, Taranto ha bisogno di energie e di risorgere. Ok, mi associo e quindi, come dire, cerchiamo davvero di far sì che queste potenzialità non siano inespresse, ma pienamente espresse, come avviene in altre parti d'Italia. Ad mai ora. Ad mai ora, sempre.